Attesi le condizioni meteo avverse previste per le prossime ore, il Nucleo Protezione Civile Città di Battipaglia con i suoi volontari si è attivato fino a domani ed in particolare nelle ore sedarie e notturne per assistenza alle fasce fragili della popolazione e per presidio del territorio comunale a causa di possibili gelate anche sul livello del mare. L'attività verrà svolta anche con i volontari della Croce Rossa Italiana, sede di Battipaglia e con i volontari di varie realtà associative presenti sul territorio comunale. Il tutto in sinergia con le forze di Polizia Municipale e di pubblica sicurezza presenti sul territorio comunale di Battipaglia e con i servizi sociali dell'amministrazione comunale nell'ottica della prevenzione.